Ma che c'entra madonna mia? Ma che ti sta a sognare a te? Mi sta a sognare a lui che non mi ricorda che c'entra. Eeeh... sta a guardare. Ragazzi, buono! Se guarda lui c'è la sognata di chiacchierano la chioma. Buono! Ah, sta la faccio qua. Cominciai. No. Cominciai. Non la faccio, non la faccio. Maestro Schicchi. Ma di chi è questo? Maestro Schicchi ha mangiato poco. Ho mangiato giusto un cincinino. Poi Anna, poi vabbè Vincenzo e non mi ricorda. Qui ci vuole. L'autogruzzo è tirarlo fuori. Mi la conosci. Lei Vincenzo? Lei. Lei Vincenzo. Ragazzi. E lei si parli. Ti vedete? Salutiamola Rubini. Eccola la. Questa va. Ciao Rubini. Ecco. Ecco. Tutti qua siamo. Ma che fa? Non fa così freddo, no? Stiamola ancora un po' qua. Mi stanno smesso tutto. È ancora freddo? Vai. Freddo. Vamo giù la cincina. È freddo? Sono male. Questo è il mio. Sto facendo tutto. Ah, è nuovo? L'altra no, eh. C'ho anche lavoro. Mi sa. Però questo è... Questa è la giacca che sta iniziando. Vado al bagno. Ti interessa? Vado al bagno. Vado al bagno. La Rubini che va al bagno. Attenzione. Eccola là. Ah, che... Aspetta, sentiamo la Rubini. No, comunque ci vai al bagno, ti interessa? Allora, tu la ti piace. Schicchi. È bello. È allusivo, eh? È allusivo. D'altronde io sono... Ma quanto dura? Io uno al bagno non lo porterei. Non lo faccio con te. Non lo faccio con te. Non lo faccio con te. Tantissima quanta. Quante gigabyte? Si vede una volta. 3 o 4. 3 è un conto. 4... Eh, sono tanti. Sono tanti. Allora sì. Sono tanti. Vai, fa un paio d'ore, sì. Ce la fai? Ciao! Ce la fa un paio d'ore, Rubetti. 3 giga. 3 giga. 3 giga. Te lo dici le ore di mani? Sotto da sinistra. Che ti dici? Si fa esattamente. Due ore e otto e nove... Non hai due ore? Che vuoi dire? No, no, aspetta, no. Due ore, due minuti. Quando lo soppi te lo dici. Ma, 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 ma stoppiamo. Ma, ma, ma stoppiamo. Ciii. Ciii.